Ed ora la pagina del Covid perché prenderanno il via domani, lunedì 20 settembre, come stabilito dalle indicazioni della struttura commissariale nazionale, le somministrazioni della terza dose del vaccino anti-Covid-19 nelle quattro asla abruzzesi. In questa prima fase, che coinvolge una platea potenziale di circa 30.000 cittadini tra trapiantati, dializzati, persone con immunodeficienze HIV, non verrà utilizzato il sistema a prenotazione, ma saranno le stesse aziende sanitarie a contattare telefonicamente i pazienti e a fissare l'appuntamento per la somministrazione. Successivamente seguiranno le altre categorie previste dagli circolari commissariali, ossia gli over 80, gli ospiti delle strutture per anziani, il personale sanitario e socio sanitario.